Che fine ha? Dopo aver partecipato alla scorsa edizione del GFVP e aver fatto una incursione nella casa per andare a trovare Patrizia De Blanc, potrebbe tornare presto in tv Ho grandi progetti di lavoro per la televisione, ma non posso aggiungere altro in questo momento, ha detto l'attore nella sua ospitata da Francesco Fredella, durante la diretta Fiume di RTL 102 5 Zequila, che in passato ha recitato insieme a Franco Zeppirelli, non si è sbotonato più di tanto sul suo futuro lavorativo, ma ha assicurato che non farà ritorno al grande fratello VIP di Alfonso Signorini, non si tratta di questo perché ho già dato Ma da quanto lasciano trapelare alcuni esperti di tv e spettacolo sembra che ci siano davvero grandi cose all'orizzonte per Continua dopo la foto, che però nel frattempo si dovrà sbrigare a cercare casa dal momento che mamma Carmela ha cambiato la serratura, come raccontato da lei stessa in una recentissima intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo Motivo? Deve sposarsi, ha 57 anni. Volei che trovasse una donna per il futuro, ha raccontato la madre dell'ex Jepinu VIP Continua dopo la foto, vuole che metta su famiglia. Forse ha ragione ha aggiunto è molto protettiva Sono io adesso il genitore di mia madre e prima di mio padre, che ora non c'è più Facciamo un contest e aiutatemi a trovare moglie E poi, sono andato via a 18 anni per cercare fortuna come attore poi quando i miei genitori sono venuti a Roma io mi sono trasferito da loro per godermi un po' la famiglia Continua dopo le foto, la signora Carmela, che come detto ha svelato di aver cambiato la serratura, ha aggiunto sempre sulle pagine del Tempo, non ce la faccio più, troppi abiti da lavare e poi quando si mette a fare il giardiniere ne combina di tutti i colori Antonio, trova un'altra casa Insomma, cercansi casa e moglie per 7 gennaio 2021 val